La Lega Serie A fa retromarcia sulla finestra invernale del calcio mercato. I vertici del calcio italiano avevano infatti fissato le date per il mercato di riparazione tra il 3 ed il 18 gennaio 2019, in modo da far coincidere la chiusura con il rientro in campo delle squadre dopo la pausa invernale. La sessione ridotta non ha però convinto le società di Serie A che proprio nella giornata di giovedì hanno prorogato la sessione fino al 31 gennaio, cioè come tutti gli altri anni. Ora la Federcalcio dovrà mandare alla FIFA la richiesta di allungare le date. L'attaccante del Milan, Patrick Cutrone, ha parlato a margine della festa per il settore giovanile rosso-nero del momento che sta passando l'attacco milanista. Certo, lui lo stimo tanto perché è una persona che oltre forte in campo è una bellissima persona e è sempre positiva. E' quella la cosa buona perché sappiamo quanto è forte, quanto ci può dare, quindi crediamo in lui. Io sinceramente non ho mai pensato a un possibile arrivo di Ivra, ovviamente è un grandissimo giocatore, però ho sempre pensato ad allenarmi e a migliorarmi sempre di più. La presentanza delle nazionali, le faccio una domanda sulla nazionale che è quella di calcio, che con Mancini sembra che ha preso un nuovo corso, è convinto che la strada intraprese è quella giusta? Io penso che Mancini, dopo normale start-up del suo impegno da tecnico, stia facendo molto bene, ma non avevo dubbi, persona seria, conosce perfettamente sia il ruolo sia il contesto del calcio italiano, sta lavorando sui giovani, mi sembra che esista una generazione, una classe di atleti che i presupposti sono molto positivi da qui a due anni, anche quattro anni, penso sia per il prossimo europeo del 2020, sia per il mondiale del 2022, l'ha stata da prendere, non voglio aggiungere troppi allenatori che già ci sono nel nostro paese, per me non poteva che essere questa, lui lo sta facendo molto bene. Trasferta difficile in Eurolega per l'Olimpia Milano che ad Atene affronterà il Panathinaikos, presenta così la sfida coach Simone Pianigiani. Più che altro complessa perché noi dobbiamo trovare questi equilibri, sappiamo che dobbiamo con partite così ravvicinate avere anche un'attenzione particolare alla gestione del rientro di Nedovic, però insomma siamo andati a giocarsela dovunque, dobbiamo farlo anche qui perché questo deve essere il senso che ci siamo detti di questa Eurolega, come stiamo facendo giocarsela tutte, un po' come diceva coach Peterson, continuare a bussare la porta, alla fine qualcuno aprirà nel senso che se continuiamo a starci magari portiamo via un'altra partita anche delle prossime due trasferte, altrimenti pensiamo a come recuperando tutti gli effettivi riuscire ancora una volta in più ad imporre il ritmo del gioco come volevamo fare e come abbiamo fatto abbastanza all'inizio stagione.